Sì, Presidente, solo per ricordare quest'Aula e anche alla Camera, abbiamo approvato la commissione di inchiesta sul Forteto. Sono passati ormai quattro mesi, da quando è stata approvata, è stata convocata per ben due volte e sconvocata due volte. Oggi hanno arrestato i responsabili, perché è passata la sentenza in modo giudicato, per cui chiedo veramente a lei, Presidente, che si impegni per convocarla a questa commissione, perché è assurdo andare sui giornali e dire faremo giustizia con la commissione, faremo giustizia con la commissione di inchiesta per vedere che è successo all'epoca e poi, visto che è stata introdotta la normativa, non abbiamo ancora il coraggio di convocarla. Per cui, veramente, Presidente, le chiedo di definire una data per dare il via dei lavori e non riesco a capire come mai anche la scorsa legislatura il Movimento 5 Stelle ha cercato di portare a termine la commissione di inchiesta. E ho capito, perché la minoranza non l'hanno fatta. Adesso sono maggioranza, insieme al PD e a Italia Viva, che si decidono a convocare la commissione di inchiesta. Grazie, Presidente.